7, sempre del Reganolpia-Mompadania, in merito a tentata delibera. Prego, Consigliere Celetto. Grazie, Presidente. A seguito della presentazione, per ben due volte, in due consigli comunali e più precisamente in quelli del 30 giugno e del 14 luglio 2011, della delibera avente per oggetto approvazione delle linee di indirizzo per l'istituzione a titolo sperimentale, ai sensi degli articoli 6 e 7 del DLGS numero 185-92-UN, parcheggio a pagamento nell'area sterrata ubicata tra le vie Fratelli Cervi e via Sassi, proposta dalla Signora Sindaco e dalla stessa ritirata in entrambi i casi, si interroga la proponente per sapere quali sono le reali motivazioni che hanno portato al doppio ritiro della delibera. Perché, nonostante la stessa non si sia potuta discutere in Consiglio Comunale, i lavori sono iniziati e proseguiti fino alla completa realizzazione dell'area di parcheggio, completa di porte di ingresso, limitatori d'altezza, cordoli e pavimentazione, sterrata, sì, ma realizzata con stabilizzato, livellato e rullato. Tutto questo verificabile alla data del 16 giugno 2011. Unici ostacoli che ancora ne percludono l'utilizzo sono due barriere di plastica posizionate sugli ingressi, probabilmente perché mancano ancora le apparecchiature per la riscossione del pedaggio. Alla luce di quanto accaduto si invitano gli amministratori a dare spiegazioni al Consiglio Comunale tutto, in quanto se le opere si realizzano ugualmente, perché si è dovuta portare all'attenzione dello stesso per due volte, una delibera che di fatto si è rivelata inutile, esautorando i consiglieri dal loro compito, facendoli apparire impotenti di fronte a un'aggiunta che decide improprio, incurante delle altrui opinioni, visto che l'opera è di fatto terminata. Grazie.